Chiara, è il tuo turno, sai cosa devi dire? Ti tocca ogni volta? Sono una sirena No, non era proprio quello che doveva dire Chiara, dove siamo? Gaia, a fare cosa? A fare i bufu Se farei bufu ti viene l'addio Ma Letizia dov'è? Beh, visto che faccio della protagonista e sono un po' selfish Ciao, sono Gaia Hey Youtube E siamo a finale della fest Siamo dal main stage in diretta Beh, mica tanto Ci saranno gli sleep champs Poi gli sleep no Sì, gli sleep no Gli sleep no Gli sleep no Gli sleeping inside Ah, ok Io avrei quotato per gli sleep no Sto sudando in ogni parte del corno Sto... A tocco il Taiton! Allora come nozzerete stavolta senza stampelle, senza stampelle e senza perri, ovviva. Dovrei fare un video della tua evoluzione. La mia evoluzione è no, ti sei persa all'intermediario del concerto dei periferi che era al busto ma senza le stampelle. Merda. Vabbè lo rifacciamo. No, non lo rifacciamo. No, non mi farò mai più investire, lo giuro. Però ora. Out of interest, did anybody see us when we were just here a few months back with the band called Stick Fuckin' Champs? That's awesome. It's good to see you guys back. And may I just say, holy shit, you guys got even more fuckin' fun. Thank you so much. We're going to play some songs off our new record in a little bit. Right now, we want to play another song off our record called Never Happy Ever After. Once Ben's done with whatever the fuck he's doing. Are we okay, darling? Are we doing alright? No, we're not doing okay. We're frantically scared. Oh, that is okay. Yay! That's your question, but now I'm okay. Some noise from a friend, Benjamin. It's been holidays from a friended house. Hello. How do we feel you right now? It's not hard. It's not hard. You're so easy to go. oh Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Hai. Sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti